Un viaggio alla scoperta dei mondi nuovi che la tecnologia mette sul piatto della società e della scuola, robotica, cultura digitale e smart city. Tutto questo è Knowledge, la manifestazione che Nuvola Verde ha organizzato per condividere con gli studenti delle scuole superiori la consapevolezza che la rivoluzione digitale non è imminente ma è in atto. Sta cambiando tutto, stanno cambiando gli stili di vita, sta cambiando i flussi di conoscenza, i giornali non sono più quelli di una volta, la scuola non è più quella di una volta, il lavoro non è più quella, il mercato globale non è più quella, è tutto un cambiamento. Ci hanno erroneamente comunicato un concetto di crisi che invece non esiste, non è una crisi, è un cambiamento profondo che sta avvenendo però con una rapidità che solo le tecnologie digitali possono sostenere e che ci impedisce materialmente ad adeguarci. Cioè è cambiato talmente tanto e rapidamente il flusso della conoscenza, oggi si comunica a distanza senza spendere nulla, con immagini e quantità di informazioni impressionanti, mentre la scuola è ancora ferma ai libri di testo e di carta. Come si fa a conciliare questi due mondi? Le aziende hanno trasformato la vita di tutti i giorni e di stili di vita e di consumo, noi siamo rimasti al parlo, dobbiamo recuperare. Il ministro Carrozza nel suo messaggio di saluto, peraltro in ologramma abbiamo voluto giocare un po' anche noi con le tecnologie, ribadisce che la scuola è troppo ingessata e lenta per poter percepire e agganciarsi a questi cambiamenti, iniziative come la nostra, non possiamo certo cambiare la scuola, ma sicuramente gettare un sasso nello stagno e cominciare a muovere le acque, filosofia, storia, i robot, la scienza, i stampanti 3D, le macchine che si guidano da soli, gli imprenditori, le performance teatrali, la cultura, tutto questo messo insieme, per quanto disarticolato, dà un'idea del grande cambiamento che stiamo vivendo.